Ciao ragazze! Sono curiosissima di vederla in giro, sicuramente anche quella comunque l'acquisterò online perché sapete che mi trovo benissimo col sito di Cosmetic4Less. Mi avete chiesto da poco quanto tempo ci vuole perché mi arrivino i pacchi. Io vi ho risposto nei commenti però comunque volevo parlarvene. Diciamo che adesso si occupano delle spedizioni dalla Germania qui in Italia, la Herms che è una ditta di trasporti. Prima comunque ci volevano 5 giorni lavorativi, adesso ultimamente mi sto corrigendo che ci vogliono almeno 6 giorni lavorativi. Però comunque dovete considerare anche che abito in un'isola, quindi almeno 24 ore, 48 ore ci potrebbero essere in più per proprio il trasporto qui nelle isole. Però mi trovo abbastanza bene perché mi arriva tutto intatto. Ho notato che ultimamente anche quando mi inviano le palette e le mettono all'interno delle bolle. Cioè oltre ad avere le bolle in tutto il pacco, le palette sono messe proprio all'interno delle bustine fatte a bolle e quindi sono ancora più sicuri e quindi magari non si rompono. A me è capitato nei vecchi ordini che qualcosa si rompesse però mi hanno sempre reso diciamo un quantitativo del prodotto. Quindi se magari costava 3 euro, almeno 4-5 euro me lo rendevano, mi facevano un buono per il successivo acquisto. Le spedizioni sono in totale 8,90 euro quindi sono abbastanza. Però se scrivete giù diciamo nell'apposito box 4 less, scritto 4 less, comunque avete uno sconto e le pagate 5 euro perché lo sconto è di 3,90 euro. Quindi almeno risparmiate qualcosa. Però io acquisto lì perché i prodotti comunque sono sempre chiusi e comunque ci sono molte volte grosse offerte. Comunque per ogni ordine potete almeno acquistare un prodotto gratis, cioè viene regalato un prodotto. C'è la sezione dei free products dove praticamente voi scegliete un prodotto gratuito sempre comunque a seconda di quanto voi spendiate. Però almeno un prodotto vi viene regalato. Poi fanno molte volte molti sconti e comunque i prezzi di Essence Catrice sono leggermente più bassi rispetto a quelli che ci sono qui in Italia. Quindi già qualcosa lo risparmio. Di solito faccio un unico ordine dove metto tutto insieme anche quando escono varie limited edition. Così è tra virgolette annullata praticamente la spesa delle spedizioni perché comunque risparmiando 50 centesimi in un prodottino, 50 centesimi nell'altro alla fine arrivo comunque ai 5 euro. Anche perché appunto vi ho detto di solito faccio ordini comunque di un grosso quantitativo di prodotti. Almeno qui 30-25 prodotti acquisto tutto insieme. Qui vedete comunque i video divisi a seconda della limited edition. Però di solito almeno faccio un ordine dove ci sono almeno 2 o 3 limited in modo tale che comunque appunto le spese di spedizione non siano troppo alte. Diciamo che in questo caso ho acquistato pochi prodotti però ve li volevo mostrare così iniziamo ad utilizzarli. E niente iniziamo. Come sto facendo ultimamente vi mostro prima prodotti diciamo magari accessori, poi beauty e poi make up. In questo caso c'è un accessorio, un prodotto da beauty e un prodotto da make up. L'accessorio è questo qui. In realtà questo io pensavo che fosse una pochettina con all'interno un piccolo asciugamanino. Però in realtà è un pulsino. Però può essere molto comodo soprattutto se voi andate in palestra. Infatti qua c'è scritto gym kit. Cioè praticamente è il kit per andare in palestra. Io non vado in palestra perché comunque per quanto riguarda lo sport faccio comunque lunghe camminate. E un po' smaltisco così magari quello che mangio. Però non vado in palestra. Comunque il prodotto è fatto così. Quindi c'è questa pochettina così trasparente che è molto piccola in realtà. E all'interno avete tre prodottini. Appunto c'è il pulsino che è così tutto fucsia. Che è davvero molto carino. È abbastanza elasticizzato. Io appunto pensavo fosse uno di quelli asciugamanino in proprio piccoli piccoli. Che di solito trovate magari nei kit anche di Natale. Che a volte fanno quei kit anche... Io ne avevo acquistato uno da Carrefour dove magari c'è il bagno schiuma, la crema corpo. E vi danno degli asciugamanini piccoli. Pensavo fosse una cosa del genere. Invece è un polsino. Non so quanto lo utilizzerò. Però è davvero carino. Io ne ho altri appunto di quando andavo in palestra. E poi molto carino. All'interno c'erano questi due prodottini. Che sono appunto gli elastici per capelli. Io questi in realtà non li utilizzo come elastici. Ma li utilizzo come braccialetti. Proprio adesso che sta arrivando la primavera estate li utilizzo tantissimo. E ce n'erano due. Uno di questo blu elettrico con una forte componente viola all'interno. E uno invece proprio un violetto color lavanda. Davvero molto molto carino. Diciamo che già da questo prodotto ho risparmiato. Perché comunque questo prodotto qui in Italia costa 5 euro. Invece l'ho pagato 3,95 euro. Quindi 1,05 euro di risparmio. Quindi diciamo che comunque si risparmia acquistando online. E niente questa è la bustina. Sicuramente la bustina la utilizzerò per mettere qualcosa all'interno. Magari anche quando vado al mare. Oppure se dovessi andare a fare delle gitte. E' molto carino il fatto che sia trasparente. Così vedete subito cosa c'è all'interno. Poi ho preso questa body mist. Che praticamente contiene all'interno 50 ml di prodotto. E' la 01 Go For A Hike Or Ride Your Bike. A 12 mesi di PAO. L'ho presa perché quella della collezione precedente. Che è sempre una collezione comunque estiva. Non l'avevo preso. Dato che era di quelli molto sbrellucicosi. Invece questo l'ho voluto prendere. Perché comunque è praticamente una acqua rifrescante. Che però non ha diciamo sbrellucichi. Ma semplicemente è abbastanza diciamo rifrescante. Di quelli che si possono utilizzare sia al mare. Ma anche appunto quando si fanno gitte. Per rinfrescare anche le braccia. La profumazione è molto molto delicata. Sicuramente anche questo lo metterò magari in borsetta. Oppure nella borsa da mare. E poi appunto ho preso l'unico prodotto di make up. Che è questo qui. E questo l'ho preso qui in Sardegna. Perché nel sito di Cosmetic For Less non era già disponibile. E' lo 01 The Summer Is Yours. Ha 8 grammi di prodotto all'interno. 12 mesi di power. E' praticamente fatto in Polonia. E' praticamente una cipria traslucida. Ha un SPF 20. E' di quelle appunto traslucide. Quindi che non si vedono sulla pelle. Ha questo disegno che non so se lo vedete. Dove praticamente c'è un cuoricino. Disegnato come se fossero a fasce. Quasi come se fosse una palla da pallavolo. E' davvero carino. Mi sono sempre trovata bene con questi cipri di Essence. Delle edizioni limitate. Forse è quella che sto utilizzando attualmente. Che non mi opacizza molto molto bene. Però considerate che adesso sto imparando bene a idratare la pelle. Quindi la pelle. Soprattutto anche adesso che c'è caldo. Qualche volta si lucida. E quindi magari adesso devo aumentare la quantità di prodotto. Perché magari prima ne mettevo pochissima. Per evitare che mi secassi la pelle. Non lo so. Però di solito mi sono sempre trovata bene. Soprattutto con quelle delle edizioni limitate. Io le utilizzo molto spesso. Utilizzo o delle cipre che hanno una colorazione molto molto chiara. Perché ho una pelle chiara. Oppure in generale ho sempre utilizzato queste. Perché mi trovo molto bene. L'unica cosa è che bisogna stare attenti. Che non sbianchino troppo il viso. E niente. Fatemi sapere cosa pensate di questa collezione. Se avete preso qualcosa. Se state aspettando anche voi la prossima collezione. Con la dedicata all'Italia. Perché ho visto dei prodottini davvero carini. Che voglio acquistare. Se è piaciuto il video mettete mi piace. E a presto. Ciao.